Scuola Alvia, al lavoro la struttura dell'ASL4 che dovrà monitorare la situazione dei contagi e adottare eventuali provvedimenti di quarantena per i vaccinati. Si riducono i tempi dell'isolamento. Personale scolastico è obbligo del Green Pass, partite le prime di FIDE. Insieme ad Arrapallo a Venezia, un percorso in bicicletta per celebrare i 70 anni della fondazione del Panatron, la tappa del Tiguglio ha toccato Chiavari. Primo giorno di scuola in Liguria per quasi 190.000 studenti, emozione e soddisfazione per il ritorno in aula anche per le superiori. Buono il debulto del trasporto scolastico, a disposizione 166 mezzi AMT e 34 privati per le linee principali. Piani di protezione civile partecipati per arginare gli effetti del maltempo, condividere i rischi per trovare soluzioni. La proposta di Fondazione Cima per limitare gli effetti delle allerte meteo. Tre sale parto, l'ospedale Lavagna. Fra un mese saranno completati i lavori con letti di ultima generazione e una sala operatoria dedicata. Aggiornata la checklist per la nascita. Iniziate le manifestazioni per i 230 anni della Società Economica di Chiavari. Quattro giorni di incontri, dibattiti, esposizioni ai laboratori del gusto con il coinvolgimento dei giovani. Attesa per la decisione della sovrintendenza sul vincolo monumentale e paesistico per il Seggiuna e la Piana dell'Entella. Lavagna intanto chiama raccolta i consiglieri regionali. Oltre 340 mila euro incassati nel mese di agosto a Sestri Levante con il sistema di sosta. Un record che conferma i dati positivi delle presenze turistiche. Nella Baia del Silenzio, 80 mila accessi. Raccolta fondi a Chiavari per la giornata dedicata alla SLA, la sindrome laterale amiotrofica. I volontari affiancati dall'impegno dell'Associazione Tigullio for Friends. Bene per le aziende, l'introduzione dell'obbligo del Green Pass per i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. E intanto si torna a parlare di assunzioni nelle aziende del Tigullio. Un saluto a tutti, ben trovati all'appuntamento con il TG Guardando la settimana. Una sette giorni di eventi importanti per il nostro territorio con la ripartenza della scuola in sicurezza e anche quello del mondo del lavoro e poi anche un'allerta meteo. Parleremo di tutto questo nel corso dei servizi che andremo a vedere. Iniziamo dalla giornata di lunedì per parlare della macchina messa a punto dall'ASL4 per la gestione delle eventuali presenze di casi di Covid a scuola. Sentiamo. Tre plessi scolastici chiusi, la primaria a Scarsella di Santa Margherita Ligure e a seguire gli asili a Ne e Ribasso. 434 provvedimenti di quarantena, ovvero classi che a causa di uno o più casi di studenti positivi al Covid sono state lasciate a casa. La prima fu una classe dei liceti di Rapallo. Riparte da questi numeri relativi allo scorso anno la scuola nel Tigullio in tempo di Covid. Mercoledì ci sarà il suono della prima campanella e la macchina della ASL4 è già in moto per garantire per quanto possibile il regolare svolgimento delle attività didattiche. Si riparte sulla scia del settembre scorso, tutti in classe, con l'arma in più di una copertura vaccinale che oltre a essere obbligatoria per il personale scolastico ha superato la percentuale del 60% per la fascia 12-18 anni. La scuola riparte con le stesse modalità con cui l'avevamo lasciata, quindi anche con gli stessi moduli, tanti dirigenti scolastici si chiedono se la modulistica per i certificati di riammissione è la stessa, sì, è la stessa, identica. Non cambiano le procedure nel caso ci sia il caso di un alunno positivo in classe. Scatta la segnalazione alla ASL che mette in moto la macchina del tracciamento dei contatti e pone la classe in quarantena. Da quest'anno cambiano alcune tempistiche. Per chi non è vaccinato e non vuole effettuare un test antigenico di verifica, il periodo di quarantena di 14 giorni che scende a 10 per chi effettuerà invece l'esame. Per i vaccinati, sempre che effettuino un tampone di controllo, i giorni scendono a 7. Per loro, come già succede per tutti, adesso il periodo di quarantena è ridotto a 7 giorni, quindi noi differenzieremo a questo punto la quarantena del singolo in base allo stato vaccinale. Sul fronte dei tamponi, per quanto riguarda l'ASL4, il punto di riferimento attivo è quello della colmata amare di Chiaveri, mentre in ASL4 non partirà ancora lo screening attraverso le scuole sentinella e i test salivari. L'auspicio è che il lavoro di squadra messo in campo lo scorso anno e che ha permesso di limitare il numero dei provvedimenti di quarantena possa ripetersi anche nel corso dell'anno scolastico in partenza, fra poche ore. Se ci sono state tutto sommato delle chiusure limitate delle classi, è anche stato grazie al fatto che c'è stata una segnalazione tempestiva delle famiglie dei casi sintomatici, della scuola che ha intercettato le possibili criticità e dei medici di famiglia e dei pediatri che hanno mandato a verifica tutti i loro pazienti. Una segnalazione tempestiva permette di prendere in carico subito la situazione e quindi permette che la cosa venga risolta nel migliore tempo possibile. Restiamo a parlare di scuola affrontando il tema del Green Pass, obbligatorio per docenti e personale scolastico, sono intanto già partite le prime diffide, e poi di un'iniziativa del Panathlon, una pedalata dal Tiguglio, da Rapallo, sede dello storico sodalizio, fino a Venezia in occasione proprio dei 70 anni di fondazione. Vediamo i servizi. Praticamente noi abbiamo in servizio circa 30.000 unità di personale e i casi di Green Pass mancante e sostituito dai tamponi sono qualche decina. I casi proprio di mancato Green Pass si contano, cioè saranno 20-25 in tutta la Liguria, sono numeri bassi. Ciò non significa che non dobbiamo puntare al 100%. Mi permetto di osservare che il Green Pass è un pezzo del sistema, che da solo non basta, però è uno degli strumenti di prevenzione più importanti. Peraltro abbiamo una legge dello Stato, cioè sostanzialmente noi come dirigenti e come funzionari dello Stato siamo abituati, legge dello Stato, ad applicarle. Poi ognuno può avere le proprie convinzioni, però c'è una legge e noi la applichiamo. Devo dire che la nuova piattaforma ha aiutato molto i dirigenti scolastici che fino a qualche giorno fa erano abbastanza preoccupati. Oggi, come oggi, questo fatto di poter controllare praticamente tutti con la piattaforma, ci rimangono solo quei casi di esenzione dovuto a problemi personali o di persone che magari hanno scelto per i primi giorni di fare il tampone ogni 48 ore, però sono casi che vanno diminuendo. Poi abbiamo dato qualche giorno per la regolarizzazione, quindi spero che entro l'inizio delle elezioni si sia regolarizzato tutto. Quindi comunque sono già scattate qualche provvedimento di sospensione? Le sospensioni ci sono le diffide che scadevano il giorno 9 e quindi sostanzialmente poi, diciamo, io penso che proprio provvedimenti di sospensione come formalizzati, al momento non ce ne siano, c'è qualcuno che è ancora in situazione intermedia e purtroppo dal giorno di inizio delle elezioni bisogna procedere, anche perché è un personale che deve essere sostituito, perché altrimenti i ragazzi rimanano tanti insegnanti. Quindi, insomma, dal 15 settembre, come dire, o dentro o fuori. Come nasce questo tour? Questo tour nasce ancora nel 2008 e volevamo collegare il Panathlon di Germania, Austria e Italia con un'iniziativa sportiva. Allora abbiamo contattato il Panathlon Club di Monaco e di Baviera e di Innsbruck per organizzare questo tour. Siamo partiti da Monaco di Baviera, abbiamo incontrato anche il Panathlon Club di Pressannone, di Bolzano, di Trento e poi siamo finiti a Sanone Grappa. E abbiamo voluto mantenere questa tradizione che si è poi allargato prima su tutta l'Area 1, quindi abbiamo coinvolto anche i club vicini e l'edizione del 2013 partiva di nuovo da Monaco, ma finiva addirittura a Venezia. Adesso è arrivata Venezia. E adesso arriviamo a Venezia. Abbiamo sempre, questa è la settima edizione adesso della RUT organizzata dall'Area 1 e questa volta abbiamo deciso di partire appunto da Tarrapallo che è la sede internazionale del Panathlon ormai da tanti anni e finiamo a Venezia dove appunto è nato il Panathlon nel 1951. A metà tappa alle grazie io sono sceso, mi hanno un po' spinto ma dopo ho chiamato il furgone, non mi vergogno a dirlo ma il cuore era buono, prima di venire qua ho fatto tutti gli esami ma il cuore è uno solo. Io sono stato sempre comunque la maglia nera del gruppo perché soffro tantissimo le salite. Cento chilometri in pianura li faccio ma la salita mi rovina. Insomma il Panathlon dà segni proprio di unità internazionale. Assolutamente, c'è questa iniziativa che è nata anni fa in area nostra, l'Area 1 che avevo gestito io come governatore che sta invece crescendo perché proprio è la prova dei nostri principi e già l'anno scorso a maggior ragione quest'anno ci abbiamo creduto molto perché anche attraverso queste iniziative vogliamo mandare il messaggio che attraverso lo sport il Paese può ripartire il piacere di stare assieme in sicurezza e quindi di così mandare questo messaggio di serenità che credo ne abbiamo bisogno tutti. Siamo alla giornata di mercoledì, giorno di inizio ufficiale per l'anno scolastico anche nel nostro comprensorio vediamo com'è andata sia dal punto di vista dell'ingresso a scuola ma anche del trasporto scolastico. prima campanella e finalmente tutti tra i banchi per il primo giorno e si spera non solo per quello. L'anno scolastico in Liguria è iniziato per 168.183 studenti studentesse per un totale di 8.143 classi in 190 istituti scolastici statali. A questi si aggiungono circa 19.000 alunni e studenti delle scuole paritarie un ritorno desiderato soprattutto per i ragazzi delle scuole secondarie e superiori dopo quasi un anno e mezzo di didattica a distanza. All'inizio era piacevole, ora però è meglio tornare in presenza secondo me. Che cosa ti mancava del rapporto in classe? Stare vicino ai compagni, vederli tutti i giorni, non solo in una videocamera e anche seguire meglio le spiegazioni in classe. Segui di più alla fine perché proprio mentre sei in didattica a distanza proprio c'è quel impulso di fare di meno perché hai più libertà, hai più tutto invece a scuola se è più rigido devi seguire per forza dato che sei in classe quindi sicuramente andrà meglio. Come sono stati gli anni di didattica a distanza a tuo avviso? Difficili, sì, difficili perché ovviamente è complicato stare davanti a uno schermo e seguire le lezioni in questo modo qui però ci si abitua anche a questo. Soddisfazione dunque per essere tornati in presenza con la speranza che questa condizione possa protrarsi per il resto dell'anno favorendo quel percorso di formazione che è fatto oltre che di studio da socialità, relazione, scambio. Mi aspetto che duri per tutto l'anno questo sì, poi mi aspetto di fare di meglio credo, di impegnarmi e ci proverò. Spero di stare tutto l'anno in presenza. Voglio finire al meglio cercando di prendere i voti più alti possibili la motorità e poi vedrò dopo. Spero vada tutto bene e si continui così alla fine perché appunto l'ultimo anno speriamo di non ritornare in didattica a distanza. Come è andato il primo giorno di scuola dal punto di vista dei trasporti? Bene, il primo approccio direi che è andato bene. Abbiamo messo in campo tutte le forze possibili, 166 mezzi di proprietà dell'azienda a cui si aggiungono 34 mezzi di proprietà dei privati per rinforzare le linee principali. Siamo qua in questi primi giorni a tenere d'occhio la situazione, a monitorare costantemente i flussi, il rispetto delle normative e il rispetto delle regole. I ragazzi a bordo hanno trovato posto e anche dal punto di vista della regolarità dei loro biglietti, qual è stata l'organizzazione dei controlli? Sì, ricordiamo che la percentuale di carico oggi è fissata all'80%, per ora nessun problema. I ragazzi tutto sommato si stanno comportando bene, abbiamo visto tanti abbonamenti e tanti biglietti timbrati. Qual è l'osservazione che avete già avuto in questa prima giornata di scuola? In questa prima giornata ci siamo accorti delle tarature, nel senso che sono stati potenziati i mezzi 34 su 166, però ovviamente sulle linee che era scontato potenziare, per esempio la linea 15 Chiava di Genova. Ora ci sono da tarare tutti i rametti laterali, questa linea per esempio dà servizio all'utenza di altre 14 linee, quindi vedere se serve di più potenziare Cicchiero piuttosto che Coreglia. Adesso andremo a fare un lavoro di taratura, ci aiutano anche delle ragazze, sono gli steward che abbiamo preso, che di base li abbiamo presi per contrastare gli assembramenti, perché a volte i social non aiutano e la gente si rivolge all'amico e dice prendiamo tutti questa piuttosto che quell'altra, quindi cercano di aiutarci su questo. Però ci danno anche un'idea dei carichi, quindi vediamo anche a seconda delle due fasce di entrata dove si è orientato il flusso per tarare bene, perché non sia uno spreco l'utilizzo di queste 30 risorse in più. Con l'inizio della scuola è iniziato anche una prima allerta meteo di tipo arancione per quanto riguarda il Levante, alcuni istituti e scuole del compressionio sono rimaste chiuse. Una riflessione su questa questione è stata proposta dai responsabili della Fondazione Cima che invocano un piano di protezione civile condiviso per limitare al massimo i disagi provocati proprio dai provvedimenti relativi alle allerte. Sentiamo. Siamo arrivati all'inizio dell'autunno e con questo, con l'autunno appunto, le prime allerte. Sì, per non chiudere ogni qualvolta le scuole sicuramente serve una comunità più preparata, nel senso che il rischio che abbiamo sul nostro territorio, su questo nostro territorio bellissimo ma altrettanto fragile, è un rischio che ci porteremo avanti nei prossimi anni. E per far sì che i nostri figli, i nostri nipoti possano andare a scuola abbiamo bisogno che le persone siano preparate e sappiano cosa fare nel caso in cui inizia a piovere in maniera molto intensa. È chiaro che la burocrazia ha tempi lunghissimi perché gli interventi sul dissesto possano essere portati a termine. Nell'immediato, nel medio periodo, c'è un intervento che si può immaginare? Sì, è quello che noi chiamiamo piano di protezione civile partecipato. Cioè, invece da far fare solo ai tecnici il piano di protezione civile, che è quello strumento per cui è dettagliato cosa bisogna fare nel caso succede quel determinato rischio, provare a costruire questo strumento, che è uno strumento importantissimo, con la comunità. Perché decidere quali azioni fare nel caso in cui inizia a piovere o nel caso in cui qualche torrente dovesse iniziare ad uscire è un tema che non può essere solo lasciato ai tecnici, ma deve anche essere coinvolta la cittadinanza. Faccio un esempio. Nel nostro territorio, probabilmente, la maggior parte delle nostre scuole, dal punto di vista del rischio di alluvione, sono in sicurezza. Nel senso che nel momento in cui i nostri figli, i nostri nipoti, raggiungono la scuola, lì sono in un luogo sicuro. Quello che invece non è sicuro è, ad esempio, il tragitto. Cioè, quando i genitori portano i figli a scuola o quando li vanno a prendere. Ecco, nel caso in cui dovesse iniziare a piovere, quindi noi ci accorgiamo che sta succedendo uno scrocio, un temporale importante in quel territorio, bisogna che i genitori, i cittadini, non si precipitino a prendere i propri figli e le scuole non mettano i figli fuori nel cortile. E quindi è anche un po' una sorta di patto sociale che bisogna fare, ma questo lo si può solo costruire in una fase pre, non si può farlo nel momento in cui l'emergenza è in atto. È per quello che noi parliamo di piani di protezione civile partecipati in cui la comunità, insieme ai tecnici, insieme al sindaco, che è l'autorità di protezione civile, ma anche insieme agli insegnanti, a tutti coloro che sono i cosiddetti portatori di interesse, si mettono d'accordo per compiere delle azioni insieme, che sono delle azioni che comunque siano anche sostenibili. I temi della sanità adesso, perché venerdì si è celebrata la giornata per le cure, con l'aspetto focalizzato su quelle legate al comparto di ostetricia e ginecologia. Siamo andati a Lavagna per vedere le novità che riguardano proprio questo reparto. Parleremo poi anche dell'inaugurazione, per quanto riguarda la società economica di Chiavari, degli eventi organizzati per i 230 anni di fondazione. Vediamo i servizi. La sicurezza nelle cure mediche è essenziale quanto la loro efficacia, per questo da tre anni si celebra la giornata nazionale dedicata a questo tema. Festeggiarla a livello nazionale e anche su mandato internazionale con l'Organazione Mondiale della Sanità, ha proprio il senso di coinvolgere, informare, condividere con i cittadini, con i pazienti e con il caregiver, questi aspetti di sicurezza. Cioè non esiste sicurezza che non parta dal coinvolgimento dei principali attori che poi sono i nostri pazienti e i loro parenti, i caregiver. Quindi festeggiare la giornata ci aiuta proprio a condividere nuove strategie, nuovi strumenti che sempre di più aumentino la sicurezza per i nostri assistiti. L'area scelta per quest'anno è quella materno-infantile. Nonostante la crisi demografica, ASL4 investe su questo settore. Sarà completata fra un mese la ristrutturazione della sala parto. Sono lavori che permetteranno di avere tre sale travaglio-parto capaci di offrire a tutte le donne la possibilità di un parto assolutamente naturale e fisiologico senza doversi spostare da una stanza all'altra, ma facendo gran parte del travaglio e l'evento parto stesso nella stessa stanza, con dei letti di ultimissima generazione che ci sono stati donati dall'Associazione Malatti del Tiguglio, che quindi approfitto per ringraziare, che permettono di eseguire tutte le fasi del travaglio e del parto con sicurezza, ma mantenendo comunque una certa comodità da parte della paziente. In caso poi di taglio cesareo di emergenza, questo può essere eseguito nella nuova sala operatoria, sempre nel complesso parto, quindi senza che la paziente venga trasferita in un altro reparto, e che permetterà di eseguire ogni tipo di intervento chirurgico in urgenza, e non solo, perché lì faremo anche gli interventi tagli cesarei in elezione, con il massimo della sicurezza e della tecnologia oggi disponibile. In questo modo il reparto, dove operano 18 ostetriche, personale infermieristico e operatori sociosanitari dedicati, avrà un potenziale di 2.000 parti all'anno, anche se al momento la media è 600-650. Anche il Tiguglio risente del calo delle nascite, anche se in proporzione meno rispetto alle altre ASL Liguri. La vagna da qualche anno offre parto analgesia e parti in acqua da diverso tempo, e ora ha introdotto la seconda e più aggiornata revisione della checklist di sala parto, uno strumento per garantire la certezza della sicurezza nelle procedure. È suddivisa in tre sezioni, travaglio, parto e postpartum. In ogni sezione ci sono gli item che noi abbiamo selezionato perché erano quelli che ritenevamo più idonei a garantire la certezza che alcune cose fossero state fatte e fatte bene. Poi verrà inserita nella cartella clinica della paziente e rimarrà agli atti come documento ufficiale. La musica è il balletto della scuola di danza Centro Studi Academy e ancora una gigantesca torta floreale con la scritta 230. Così a Chiavari hanno preso il via le iniziative per i 230 anni della società economica, una quattro giorni di appuntamenti distribuiti tra gli spazi espositivi e museali di Via Ravaschieri e il giardino dei lettori della biblioteca. In questi quattro giorni noi troviamo una mostra che durerà da oggi fino al 25 di settembre, una mostra antologica di tutti i premiati del Turio Coppello. Come facevano anticamente i fondatori che premiavano la gente del comprensorio, artigiani e artisti, ormai da una trentina d'anni abbiamo ricominciato a premiare il miglior artigiano e il miglior artista. I luoghi di questi quattro giorni, dove si disblocheranno i vari eventi? Noi siamo dentro gli spazi della società economica, molti di voi sapranno che abbiamo acquisito una bellissima galleria e un'altra parte di giardino per cui abbiamo gli spazi interni, tre sale dedicate proprio all'esposizione degli artigiani e tutto il giardino invece sarà dedicato a cose diverse. Ricco è diversificato il calendario che comporterà mostre d'arte, colazioni in giardino, concerti musicali, incontri con autori, promozione e valorizzazione enogastronomica. Non mancheranno le visite guidate alla città e alle realtà museali dell'economica con la presenza di numerosi ospiti nazionali. Il progetto 230 e non sentirli proseguirà fino a domenica, ha visto la stretta collaborazione anche dei giovani del comprensorio. È stato sicuramente un modo per mettersi in gioco e per capire diverse realtà, non soltanto quelle giovani che possono essere più vicine a noi, ma quelle per affiancarsi un po' a una generazione diversa dalla nostra, quindi cercare di mettersi un po' nei loro panni e loro nei nostri panni. E i temi affrontati quali saranno anche nel corso degli incontri che avete programmato? Saranno appunto la valorizzazione del territorio con la promozione di prodotti tipici del territorio, di mostre, di eventi che andranno poi anche a toccare la musica, ci saranno dei concerti. Verrà poi a parlare Roberto Mercadini che per noi è una grande fonte di orgoglio averlo portato fino a Chiavari. Niente, insomma, sono tutti degli eventi per cui vale la pena partecipare. Torniamo in studio, c'è attesa in queste ore la decisione della sovrintendenza in merito alla posizione o meno del vincolo monumentale paesistico della piana dell'Entella. Abbiamo cercato di fare il punto nel servizio. Bilancio fatto anche per altro settore, quello della sosta a pagamento per il comune di Sestilevante. È stata un'estate da record che ha testimoniato anche la numerosa presenza di turisti sul comprensorio proprio nella cittadina di Sestilevante. Infine un'iniziativa, quella dell'AISL, l'associazione italiana a sclerosi laterale ammiotrofica. Si è celebrata la giornata nazionale e a Chiavari c'è stato un banchetto di raccolta fondi. Vediamo i servizi. Le ruspe restano ancora ferme, ma continua anche sotto traccia il fitto carteggio tra gli enti coinvolti nella complessa partita legata alla piana dell'Entella. In queste ore, infatti, si stanno chiudendo i giochi, di uno degli aspetti ai quali è legato il destino dell'area, quello dei vincoli invocati per tutelarla dallo stravolgimento minacciato dai lavori al nuovo argine. In campo, in diversi ruoli, la sovrintendenza per i beni archeologici e del paesaggio, la città metropolitana di Genova e la regione Liguria, i comuni, in primis quello di Lavagna e le associazioni ambientaliste. Se per quanto riguarda l'altro match, quello che vede i proprietari dei terreni in attesa del risponso del Tribunale delle Acque sulla legittimità degli espropri si attende il fischio finale, e non è detto che da Roma siano proprio aspettando gli eventuali sviluppi d'altiguglio, per quello relativo alle richieste di apposizione dei vincoli paesistico e monumentale sull'area, siamo ormai ai tempi supplementari, con l'arbitro della partita, in questo caso la sovrintendenza, che si è presa ancora alcuni giorni di riflessione per stabilire sulla legittimità della richiesta. Richiesta in realtà duplice, avanzata sia dal comune lavagnese e dall'associazione ambientalista Italia Nostra, che ha chiesto di apporre il vincolo sia sul singolo seggiun, l'antico argine napoleonico, sia sull'intera piana e tutta l'area del fiume Intel, dalla sorgente alla foce. Cosa cambierebbe se questo avvenisse? Proviamo ad ipotizzare. Intanto il seggiun, che dalle ricerche storiche si è visto come sia da considerarsi già bene pubblico, e per questo non espropriabile, non potrebbe essere più toccato. La questione sicurezza, invocata dalla città metropolitana di Genova nel giustificare l'intervento di argine, e secondo indiscrezioni messa anche in una lettera inviata alla sovrintendenza per dissuaderla caldamente dalla decisione sul vincolo, andrebbe ottemperata con un nuovo progetto. Che manchi poi un accordo di programma complessivo è quello che ha certificato nero su bianco il presidente della regione Toti, rispondendo al comune di Lavagna lo scorso 6 agosto e dichiarando nullo per vizi procedurali l'accordo del 2013. Nel contempo gli stessi uffici della regione hanno scritto al comune di Lavagna e a quelli che sono toccati da Lentella per metterli in guardia che se davvero venisse riconosciuto il vincolo paesaggistico sulla piana, verrebbero meno tutte le possibilità di edificare nell'area. Forse ci volevano spaventare, ma di fatto è quello che invece vogliamo che avvenga, commenta sarcastico il sindaco mangiante. Lo stesso prima cittadino nel contempo ha chiamato raccolta tutti i sindaci della piana dell'Entella e i consiglieri regionali per esprimere la preoccupazione per la carenza di questo accordo di programma complessivo che mitighi il rischio idraulico del fiume Entella e per chiedere fermamente l'avvio dell'iter amministrativo per colmare questa grave e pericolosa situazione. Ovviamente con un progetto condiviso, ambientalmente compatibile e accettato da tutto il territorio. È stato un anno molto positivo. A fine agosto, gli ultimi dati disponibili a fine agosto parlano già di aver superato un milione di euro complessivamente di incassi dai parcheggi a pagamento di Sestre Levante con la punta di agosto che ha superato da solo i 340 mila euro con circa 100 mila transazioni in un mese, quindi in pratica 100 mila auto che hanno pagato la sosta in città. C'è un risultato anche che riguarda il parcheggio gratuito in via Baden-Powell. Anche questo esperimento ha dato un esito positivo. Sì, assolutamente. Il parcheggio di Baden-Powell prima era pagamento e spesso restava vuoto essendo un po' più fuori dal centro storico. Abbiamo deciso già dalla scorsa estate di metterlo gratuito e in effetti è stato molto apprezzato dai turisti che magari si fermano anche per una settimana, dieci giorni, hanno un posto dove lasciare l'auto senza spendere ed evitano di intasare anche il centro poi col traffico delle auto che vanno avanti e indietro. Questo ci consente di fare anche un bilancio dal punto di vista turistico che state, avete trascorso a Sestri Levante? Sì, sicuramente è stata un'estate positiva, appunto anche da dati così come quello che può essere il sistema della sosta, si vede in effetti che c'era molto affollamento. Anche da altri parametri come insomma le richieste all'ufficio IAT che gestiamo di Sestri, si vede che appunto c'è stato il tutto esaurito sostanzialmente per tutta l'estate e anche dal fatto ad esempio abbiamo un altro tipo di gestione che portiamo avanti, il contingentamento di Baia del Silenzio che quest'anno ha registrato quasi 80.000 accessi, quindi in pratica ci sono stati quasi 4 mesi proprio anche lì di tutto esaurito. Per la prima volta a Chiavari quest'anno? Per la prima volta a Chiavari quest'anno è un'emozione, è una bella esperienza, abbiamo capito che nelle piccole realtà forse è più facile perché si conoscono un po' tutti e quindi abbiamo voluto fare questa prova e vedere quale sarà il risultato ma contiamo su un buon risultato. La raccolta ovviamente è per aiutare le famiglie dei malati di SLA e per la ricerca. Nel nostro comprensorio ci sono presenti pazienti? Sì, una ventina, non tantissimi per fortuna, la SLA lo sapete è una malattia rara quindi i numeri sono numeri piccoli però è una malattia devastante, è una malattia importante e che ha bisogno di tanto aiuto, soprattutto l'aiuto nella famiglia a casa per l'accudimento di questi pazienti. Questa è una delle missioni più importanti che noi facciamo. Io voglio dire questa cosa, scusate mia emozione perché oggi è l'anniversario della morte di mio marito 12 anni fa. E da lì nasce un impegno signora? Da lì nasce un impegno, ecco questa cosa volevo dirla visto che cade proprio oggi, da lì io sono sempre stata presente perché ritengo che sia importante esserci, è l'unico modo per reagire, per fare qualche cosa di utile per gli altri. Come strutture sanitarie oggi si è seguiti, c'è necessità comunque di un'opera che va oltre la struttura ospedaliera o delle ASL? Certo, allora noi lavoriamo comunque a fianco in questo caso dell'ASL 4 Liguria, abbiamo finanziato come Tiguglio for Friends una borsa di studio per un'attività psicologica, quindi abbiamo una psicologa, l'ASL 4 e l'ASL 4 ha già un gruppo, un comitato di esperti SLA. Noi cerchiamo non di sostituirci chiaramente all'ospedale ma di affiancarci proprio per dare un primo sostegno a chi avendo diagnosticata la malattia non sa a chi rivolgersi, cerchiamo di fornire un primo sostegno, dopodiché indirizziamo nei canali appropriati. E siamo così arrivati al nostro approfondimento conclusivo, questa settimana è dedicato al tema del lavoro, sia per quanto riguarda l'aspetto del Green Pass introdotto obbligatorio dal governo per tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, decisione questa presa accolta positivamente dalle aziende del nostro territorio, aziende che stanno ripartendo ma che tornano anche a parlare di assunzioni, di nuove assunzioni. Tutto questo nel nostro approfondimento, il Tg guardando la settimana si concluderà al termine, l'appuntamento ritorna 3-7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Un provvedimento atteso e apprezzato ma che adesso deve essere applicato nel concreto prendendo in considerazione tutti i risvolti pratici che questo comporterà. L'obbligo del Green Pass per il mondo del lavoro deciso dal governo con un decreto ad hoc trova il plauso anche del tessuto produttivo del Tiguglio che non nasconde però le difficoltà a cui dovranno fare fronte le aziende il 15 ottobre, data di entrata in vigore dell'obbligo della certificazione verde per entrare nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati. Personalmente sono assolutamente a favore del Green Pass. È ovvio che nel momento in cui c'è da gestire una situazione di Green Pass e di persone che comunque o non vogliono o non possono vaccinarsi, la privacy viene assolutamente a mancare. Pensiamo all'organizzazione alternativa, quella dei tamponi. Non sappiamo mai con certezza né quanti né come si devono fare e non possiamo pensare che noi aziende di avere a disposizione all'interno e meno che mai un laboratorio esterno che sia a nostra disposizione per fare i tamponi. Altro tema fonte di preoccupazione è quello dei controlli. È prevista infatti una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso al posto di lavoro violando l'obbligo del Green Pass. Ma a chi spetta la verifica? Un conto è la situazione di una grande azienda come Fincantieri per esempio dove esiste un servizio di portineria con tanto di varchi di ingresso. Un altro è la piccola azienda con pochi addetti. Altra questione il cui quadro andrà definendosi solo il giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo è quello del personale. Come si dovranno sostituire i lavoratori inevitabilmente sospesi e per i quali scatterà il blocco totale dello stipendio? Oggi noi non sappiamo il 15 che cosa potrà accadere. Aziende che siano piccole che siano grandi possano vedere ridotta la loro forza di lavoro da un momento all'altro senza poter programmare poi la produzione. Green Pass e tamponi infine. I test antigenici saranno gratuiti solo per gli esenti previsti ovvero per chi non può vaccinarsi per ragioni diverse dalla sua volontà. E' stata accolta la proposta delle regioni di calmierare ulteriormente il prezzo dei tamponi costeranno 8 euro per i minorenni e 15 per gli adulti così come è stata accolta la richiesta di estendere la validità del tampone a 72 ore. E' un tiguglio che riparte al meglio con le sue aziende principali pronte a sfruttare dopo i mesi di crisi legata al covid quello che tecnicamente si chiama rimbalzo e vedrà nei prossimi mesi un consistente aumento degli investimenti e della forza lavoro senza però far finta di non vedere le incognite che si stagliano all'orizzonte la prima fra tutte il consistente aumento del costo delle materie prime frutto di una lotta a colpi di dazi tra America, Europa e paesi asiatici. In concreto mancanza di metalli, plastica, semiconduttori e un aumento del costo dell'energia. Ne è consapevole la Rinox che in questi mesi ha cercato di aumentare le scorte nei propri magazzini e che il giorno dopo l'acquisizione da parte del gruppo Arvedi di cui è parte dell'acciaieria AST di Terni uno dei fornitori di proprietà prima della tedesca Thyssen Group è fiduciosa di riuscire a contenere l'aumento dei costi di produzione. L'azienda deriva Trigoso ad oggi conta 270 dipendenti che potrebbero crescere ancora. Un'azienda italiana ha acquisito un'azienda che è sotto il controllo della Thyssen Group quindi tedesca e il nostro fiore all'occhiello dell'Arinox un domani potrebbe continuare a espandersi e a assumere come sta facendo anche ultimamente ulteriori giovani del territorio. Carichi di lavoro garantiti per i prossimi anni anche alla Fincantieri di Riva Trigoso mentre è pronta a ritornare a pieni giri anche la macchina di Ilex di Chiavari dove la preoccupazione maggiore adesso è la carenza di microchip per la componentistica. Stanno per partire le due nuove idee produttive la prima a gennaio per l'agricale e la seconda a giugno per l'atonale e in queste settimane il personale ancora in cassa integrazione, 27 operai sta seguendo un corso di formazione al villaggio del ragazzo assunzione in vista anche alla Algo di Leivi. Ci saranno circa una quarantina di ingressi in questa azienda ed è un fatto anche questo positivo per il territorio perché nel lungo periodo noi pensiamo che diversi lavoratori possono essere stabilizzati e quindi anche in questo caso c'è occupazione sul territorio. Ci sono anche aziende che sono in forte espansione come SITE che rispetto al tema della telefonia ricerca tecnici specializzati che possono garantire una professionalità elevata. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti.